In questo edificio dove sono stati già posizionati i radiatori andiamo a inserire il generatore, la caldaia, andiamo a posizionare il collettore a una certa altezza da pavimento, 40 cm, lo posizioniamo nel corridoio, andiamo a collegare con una tubazione che passa in prossimità della caldaia il collettore tramite il comando automatico, dopodiché sempre col comando automatico colleghiamo la caldaia alla tubazione precedentemente disegnata, andiamo a collegare la serie di radiatori che abbiamo già inserito con il collettore tramite di nuovo il comando automatico, quindi selezioniamo i radiatori, colleghiamo il collettore con la rete di mandata, procediamo nel disegno del ritorno simmetrico, effettuiamo il calcolo di entrambe le reti e una volta calcolate le reti, quindi abbiamo visto i risultati, lanciamo anche il computo metrico. Andiamo a dare il nome al computo, scegliamo di computare la rete termica, creiamo il computo metrico, dopodiché andremo a stampare il computo metrico e procederemo all'apertura del computo.